Il Palermo adesso ha una seconda fase di campionato per poter dimostrare, per rispettare le aspettative che si erano dichiarate a inizio campionato. Chiaramente si è cambiato un allenatore giovane, un allenatore abbastanza esperto, Baldini che lo si conosce per quello che ha fatto a Palermo, in giro per l'Italia. Quindi sicuramente l'unica medicina per risollevare, per creare entusiasmo, per creare fiducia sono i risultati. Quindi credo che bisogna lavorare, ma nel calcio non si può prescindere dai risultati. Quindi arrivando ai risultati sicuramente si ritroverà l'energia, la voglia, l'entusiasmo per cercare di lottare, anche se il Bari lo vedo abbastanza distaccato, compatto e spedito verso l'obiettivo principale. Poi resteranno i play-off e credo che il Palermo abbia una rosa, le aspettative, le velleità e il coraggio per poter giocarsela con tutti i play-off.